ciao a tutti ciao amici eccoci eccoci qui per una puntata con luisa alla scoperta oggi di la reggia di versailles in provincia di pavia è esagerato dire così non è esagerato non lo diciamo noi ma lo dicono lo dicono i titolari del castello castello di chignolo po castello di chignolo po venne denominato venne detto la versailles della lombardia il castello di chignolo po è veramente veramente una chicca è da visitare l'abbiamo qua vicino un peccato non usufruire di queste possibilità e oltretutto vi devo dire che ho trovato una guida una signora che dopo aver lavorato un tot di anni è andata in pensione quindi si è dedicata a fare la guida in questo castello perché è un appassionato è una guida volontaria e quindi io ho trovato prima delle tue belle foto delle tue spiegazioni un bel video e sai che noi partiamo sempre con un video che così facciamo capire bene subito inquadriamo subito bene dove ci troviamo anche per gli amici che ci seguono da altre parti della lombardia grazie a lombardia live 24 oltre a pavia 1 tv allora vediamo insieme questa versailles della lombardia la lombardia live 24 oltre a piazza la lombardia live 24 oltre a piazza un colore di Soldi live 24 oltre a piazza live 24 oltre a piazza live 24 oltre a piazzabbe presto marimento a piazza live 24 oltre a piazza live a piazza live? proprio sì 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 davvero però devo dire che abbiamo scoperto qualcosa di sensazionale come al solito diciamo sempre la regia di veneria per esempio la scorsa settimana l'abbiamo toccata parlando di torino ma abbiamo davvero a due passi da casa nostra delle delle bellezze che sono tutte da scoprire infatti diciamo con pochi chilometri piccoli percorsi possiamo veramente passare dei weekend di cultura e come vi dicevo ho trovato molto preparate che hanno raccontato una storia antica e coinvolgente allora la parte più antica del castello è la torre che qua non si vede però si vede una piccola parte qui siamo con le tue foto ecco ricordiamo la particolarità della trasmissione di luisa che lei va in in anteprima per noi fa le foto e fa i video e poi ci dimostra appunto in sequenza e li commentiamo anche insieme nel bel mezzo della campagna e della bassa pavese allora questo è il tipico paesaggio pavese e lì siamo a pochi chilometri dal po quindi l'atmosfera è stata ritrea e c'è tutta l'atmosfera del po allora questa qui sarebbe stata la palazzina di caccia diciamo e praticamente c'era tutto un laghetto intorno come vedete c'è un affossamento e questo fa parte del parco e sono 30 ettari di parco quindi un'estensione noi questa è la parte barocca questa è una parte barocca ormai diciamo non è più usufruibile però è veramente molto molto bello veramente e questo ecco qui qui c'è la possibilità appunto di fare visite guidate vediamo delle merlate sui camminamenti di ronda perché perché ci sono delle parti segrete no una visita proprio indietro nel medioevo io direi che in questo castello si dovrebbero fare due visite perché una parte di visita è una parte barocca l'altra parte di visita è la parte medievale di conseguenza siccome è talmente vicino che si può suddividere in due giornate anche volendo allora ecco la torre vedete questo è il castello visto dall'ingresso in fondo c'è questa torre in alto che svetta che è la parte più antica del castello che è nato lì il castello il castello poi è nato intorno a questa torre è una torre e dall'alto si può vedere il po quindi perché è nata questa torre è era nata per controllare quando arrivavano gli eserciti si ritiene pensate quanto antica che l'abbia fatta costruire il re liutprando attorno al 700 quando pavia era la capitale dei longobardi quindi torre d'avvistamento e torre anche con caratteristiche militari ecco queste sono le mura di cinta vedete che ci sono anche delle nicchie e dentro ci sono c'erano delle statue che adesso sono in restauro quindi ha tutto il muro di cinta intorno queste sono ancora mure originali come vedete e quindi tutto il castello e ricetto è stato costruito intorno a questa torre di avvistamento ecco ancora al giardino con queste statue vedete proprio che ancora il materiale originario con mattone di terra rossa che arriva proprio dalle dalle nostre parti poi a questo giardino ecco interessante anche la scala da braccio vedete questa scala ad abbraccio che sembra abbracciare il castello no potete salire trovate la balconata e poi tutto il castello ecco la balconata ma da sfondo diciamo anche un'ottima location anche per matrimoni per cerimonie proprio per questa sua caratteristica queste belle scalinate che si abbracciano la famosa scala da braccio matrimoni perché lì puoi stabilire di fare tutte le foto più belle della in assoluto anche foto molto interessanti anche sulla sul palazzo che era la palazzina di caccia questo dell'epoca barocca e poi anche tengono molti convegni molti molti conveni la particolarità di questo castello è che è abitato e abitato dal proprietario dico nome e cognome perché su internet su tutti che è l'avvocato altonio procaccini infatti sulla all'ingresso del castello c'è la sua targa dello studio quindi non solo abitato ma anche la sede dello studio e quindi è una particolarità perché non tutti i castelli sono abitati dal proprietario e questo proprietario arriva da napoli della campagna ed ha acquistato questo castello sei innamorato insomma di questo altrone non ha mica tutti i torti e potendolo fare perché no infatti anche perché poi diciamo la verità se non dovessero esserci i proprietari bisognerebbe che ci fossero dei custodi ma comunque a tenere in piedi tutta questa struttura con questo parco e con questo giardino non è cosa da poco non è cosa da poco e allora infatti ci diceva la guida che questo proprietario avvocato antonio procaccini ha tre figli due fanno la sua professione il terzo figlio si occupa di esclusivamente di questa proprietà ecco qui anche assaggiato dei piatti vero va bene non al castello però all'uscita dalla visita questo è il classico gnocco fritto con i salumi allora d'altronde siamo al confine ricordiamola è tra pavese e piacentino esatto siamo la cultura è anche un po piacentina questa foto è stata scattata dal fossato perché anticamente intorno al castello c'era un fossato pieno d'acqua pieno d'acqua e lì in questo fossato poi c'erano le cucine c'erano le dispense e perciò diciamo che questo personale questi cuochi cuochi camerieri giardinieri eccetera vivevano in condizioni terribili di umidità e adesso hanno tolto anche questa foto è stata fatta dal basso quindi dal fossato hanno tolto l'acqua e c'è tutto il camminamento intorno e quindi il fossato è diventato usufruibile un po come il castello di pavia di castello di pavia c'è una bellissima prospettiva però qui dal basso non so se notate ma ha davvero delle caratteristiche oltre al fatto che ha dei bellissimi colori questo castello sì sì i colori ti ammaliano bisogna trovare anche la giornata molto limpida senza la nebbia perché ripeto siamo a pochi chilometri dal po è quindi succede che ci sia anche la nebbia in questo periodo la nostra atmosfera ecco questa è una il fossato come vedete queste finestre bianche sarebbero le finestre delle dispense delle cucine pensa dove c'è quel ponte lì era tutta acqua quindi vivevano sott'acqua il personale ecco abbiamo fatto la visita anche alle cucine ma sono una cosa meravigliosa enormi dei cammini enormi tutte ecco il e questo è il fossato questo è proprio il fossato che conteneva tutta questa acqua intorno che serviva da difesa era la difesa della del castello ecco lo vediamo poi è questa la porta di ingresso lo spettaglio anche della porta di ingresso e ha questo color mattone che proprio fatto con i mattoni della della nostra zona ecco il fossato vedete anche il muschio sulle famoso mattone lombardo il mattone lombardo rosso ecco beh tu che sei di lunga villa di mattoni a lunga villa non ne mancavano beh tutta la zona questo è il cortile d'onore la parte interna il cortile d'onore vedete che bello anche questo è mantenuto come all'epoca non è non è stato toccato perché ecco e questo è il balcone della della camera principale questo tutto in ferro battuto esatto con lo stemma e da qui come vedete vabbè ripeto non c'era una grande luce però si può vedere il paese e tutta la proprietà che c'è intorno al castello ecco sempre d'onore con l'interno con l'altra balconata e qua praticamente quando arrivavano gli ospiti gli ospiti allora erano molto importanti e c'erano dei re dei papi degli arciduchi ecco sempre una prospettiva della del cortile d'onore e si vede questa famosa torre che vi dicevo era il nucleo originario del castello e poi è stata fatta la torre poi il castello è stato fatto intorno sempre l'ingresso del cortile d'onore con la torre ecco ecco lui ecco la proporzione eccomi cioè la foto serve per far sempre vedere la proporzione di queste opere mastodontiche davvero belle belle veramente questa è la parte dove c'è la la stanza principale vedete con questo bellissimo questa bellissima balconata in ferro battuto questo originale come vedete questa parte è barocca è rimasta proprio sì come sì 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 questa è rimasta era master rimasta intatta praticamente molto bene l'interno mi ricorda un po uno spaccato dei cortili dell'università di pavia esatto esatto bravo anch'io ho avuto questo ricordo non dimentichiamo che siamo legati sempre alla capitale che era pavia da re elliot brando quindi lui ha avuto diciamo questo trade union tra e questo castello di chignolo po ecco e tra l'altro volevo dire un'altra cosa questo castello era in una è in una posizione strategica per la via francigena perché scendevano dal nord all'europa i pellegrini e avevano l'opportunità di fermarsi al castello di chignolo per per dormire per rifocinarsi eccetera e proseguire verso addirittura potevano proseguire verso la puglia e imbarcarsi per gerusalemme quindi questa era una posizione strategica ecco vedete che meraviglia questa scala no a bobbio e passavano di qui e stavano esatto da queste parti no si l'ingresso della scala dal novarese verso la lomellina e poi arriva appunto verso il pavese bel gioioso e scendendo poi si arriva anche esatto a chignolo prima di entrare in terra piacentina in terra piacentina quindi prima diciamo anticamente la strada si chiamava via di monte bardone successivamente è stata denominata via francigena ecco che era la romea che collegava il nord Europa con roma e terra santa l'antica via romea esatto esatto l'antica via romea e però questa questo castello è stato donato dal re berengario nel 900 è stato donato ai monaci benedettini dell'abbazia di santa cristina il paese che c'è vicino santa cristina bissone e quindi c'era l'abbazia dei monaci però questo castello è stato poi donato a loro ai monaci vedete che meraviglia questa è la scala la scala la scala ad abbraccio esatto e quindi diciamo che c'erano arrivavano a Erburi tutti questi monaci e si fermavano a a pernottare a questi beh non era il tipico ostello della diciamo del pellegrinaggio però siccome erano beh direi di no insomma era uno scalino in su era uno scalino in su però erano arcivescovi erano nobili perciò avevano questa questa dimora ecco questo invece è il periodo barocco era la palazzina di caccia ecco di eh la storia c'è proprio in questo castello c'è proprio una storia anche perché eh sono passati anche dei papi sono passati dei papi quindi eh tu ora cammini su eh un prato un giardino un pavimento dove hanno camminato grossi personaggi eh è molto molto emozionante ecco e qui forse c'è un collegamento con un golf club del proprietario che ha ha fatto qualcosa con un golf club e poi c'è anche il parco e teatro dell'uccelliere appunto che esatto vi dà anche quel qualcosa in più rispetto ad altri castelli comunque vale davvero la pena andare a chi non lo può e visitare insomma questa vale la pena anche perché come ripeto eh soggiornato principi archiduchi papi e anche anche eh l'imperatore d'Austria ah anche l'imperatore d'Austria quante cose abbiamo imparato eh quante cose abbiamo scoperto eh davvero abbiamo scoperto eh oltretutto nelle stanze eh che eh non vedrete perché eh essendo ancora una dimora diciamo tra virgolette privata abitata dal proprietario all'interno non si può fare foto non si possono fotografare eh le meraviglie che ci sono all'interno allora all'interno purtroppo se parliamo di mobili eccetera è rimasto proprio poco 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 perché con l'andare dei secoli ognuno si portava via qualcosa compreso Napoleone eh che ha soggiornato e si è portato anche lui qualcosa vabbè allora nelle stanze la cosa che mi ha colpito sono questi soffitti affrescati mantenuti meravigliosamente affreschi e stucchi perché hanno chiamato eh degli allievi del tie e e allora ci sono eh questi ehm diciamo anche soffitti a carena di nave con dei colori meravigliosi proprio si vedeva la scuola del tiepolo e tra un fresco e l'altro una degli stucchi eh sempre sullo stile veneziano erano gli allievi del tiepolo quindi sono arrivati eh scultori e pittori veneziani e andesi il parco è trenta ettari come vi avevo detto quindi ehm è una un'estensione enorme e poi in fondo c'è quella famosa palazzina di caccia barocca quindi ce n'è per tutti i gusti chi vuole camminare si fa tutto il parco chi vuole invece vedere gli interni prende la guida insomma è una meraviglia a due passi da casa veramente e noi abbiamo avuto l'occasione appunto di visitarlo grazie a Luisa Dosseni che come al solito va a scoprire delle chicche ce le offre ci dà degli ottimi spunti per farci un weekend magari a due passi da casa senza conoscere magari che appunto ci sono queste belle dimore che meritano davvero tanto tanto poi è ovvio noi spazieremo in lungo e in largo anche per altre regioni per altre località più o meno famose però è bene anche riscoprire la nostra terra perché ci ha dato tanto in passato ma questo passato dobbiamo farlo rivivere oggi come abbiamo fatto con il castello di Chignolo grazie Luisa perché ci hai dato come al solito un ottimo spunto grazie a voi un prossimo viaggio un prossimo viaggio in questo caso allora qui siamo stati nella provincia di Pavia cominciamo a scoprire quello che abbiamo intorno a casa e poi piano piano ci allarghiamo quindi il quello i nostri nostri tesori sono da da conservare e da sostenere grazie Diego grazie amici grazie a tutti voi per averci seguiti appuntamento alla prossima settimana ciao Luisa ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti